Sì, noi abbiamo organizzato il 6 novembre questo incontro e devo dire che è stato un incontro molto partecipato perché ci sono state più di 100 persone in collegamento fino alle 7 eventi nel quale abbiamo cercato attraverso anche personalità che hanno grandi esperienze in questo settore di spiegare perché siamo d'accordo per la costruzione del biodigestore. Abbiamo iniziato dicendo che questo impianto non è da confondere con altri impianti che purtroppo ci sono stati nel nostro territorio e che hanno inquinato in quanto impianti non adeguati. Io vorrei precisare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che il biodigestore non è altro che un impianto che attua la degradazione della sostanza organica in maniera naturale, cioè attraverso dei microorganismi senza contatto con l'ossigeno e questo processo avviene all'interno di vasche chiuse ermeticamente quindi che non possono fare affluire all'esterno né fumi né odori né tantomeno liquami. Quindi il problema inquinamento non sussiste. Chi ancora sostiene una cosa di questo genere vuol dire che non conosce, non vuol conoscere e questo secondo noi non va bene. E questa, quella dell'inquinamento, è una delle tante cose contestate da chi si è schierato apertamente contrario alle biodigestore. Un'altra invece riguarda quella del dimensionamento. Si è parlato tanto di questa cosa qua, ovvero di un impianto che sarebbe realizzato più grande rispetto a quello che è necessario. Sì, anche questa critica l'abbiamo sentita da alcune persone, per la verità non molte, però sì, alcune hanno proposto anche questo ragionamento. Allora, il punto qual è? Che quando si va a costruire un biodigestore è evidente che noi dobbiamo riferirci alle esigenze attuali che nella provincia di Pesaro, come ben sappiamo, si aggirano sulle 50.000 tonnellate. Però non possiamo fermarci ad oggi, perché questo è un impianto che presuppone un investimento grosso, importante. Parliamo di 30 milioni. Quindi dobbiamo guardare a quello che sarà l'esigenza anche fra 10 anni, 15 anni, perché altrimenti sarebbe un'opera sprecata. Allora, in questa ottica è evidente che il biodigestore ha necessità di essere superiore rispetto alle esigenze attuali, ma ci sono altre ragioni per cui deve avere una certa entità e una certa grandezza e sono essenzialmente quelle del buon funzionamento del biodigestore, perché è evidente che un biodigestore per ben funzionare deve avere una certa struttura che gli consente di funzionare sempre, anche in situazioni magari di maggiore ingresso di rifiuti. Questo è il punto. Lo ha spiegato benissimo il professor Marangoni, docente dell'Università Bocconi di Milano, alla nostra appunto convegno del 6, a cui io rimando coloro che volessero approfondire questa questione, preciso, che abbiamo pubblicato su Facebook, su Youtube e sul nostro sito, tutto il convegno. Quindi chi è interessato può riascoltare gli interventi qualificati che ci sono stati. Un'altra obiezione che è stata posta e che si collega sia al discorso inquinamento ma anche al discorso del sovradimensionamento e che riguarda i camioni, quindi il trasporto e la logistica che facendo un impianto, come si presuppone in questo momento, di dimensioni maggiori, qualcuno è ipotizzato anche per ricevere rifiuti da altre parti, non solo dalla provincia di Pesaro Urbino e quindi un aumento delle emissioni di CO2. Anche da questo punto di vista al convegno abbiamo affrontato il problema dicendo che quando il biodigestore sarà in funzione completamente avrà un ingresso di 30 camion al giorno, quindi un percorso di 30 camion in grosso modo, che verranno dalla provincia e anche probabilmente da fuori provincia. Però oggi noi, i nostri camion, quelli che portano la spazzatura in Emilia Romagna o in Veneto, fanno dei percorsi molto più lunghi, quindi se davvero vogliamo combattere la CO2 e rendere il clima, dare un contributo al clima perché diventi meno inquinato, abbiamo bisogno proprio di un impianto vicino a noi per ridimensionare appunto questi traffici. Ma c'è un'altra cosa importantissima che io credo vada sottolineata, con il biodigestore noi dai rifiuti ricaviamo che cosa? Ricaviamo biometano che poi diventa biogas, in sostituzione del gas che oggi utilizziamo e che è fossile ovviamente e quindi altamente inquinante e poi ricaviamo anche il concime naturale per l'agricoltura. questi sono vantaggi enormi anche sotto il profilo economico, senza pensare che un biodigestore comunque fra i 30 milioni per l'impianto e quello che succederà dopo per la gestione significa anche incremento dell'economia della zona. Io credo che tutte queste cose vadano tenute in considerazione. Sì